Oggi parliamo dell'inadempimento delle obbligazioni e concludiamo così il nostro percorso sul tema appunto obbligazioni. Ricordiamo però, facciamo una premessa, ricordiamo che il modo consueto di estinguere un'obbligazione è sempre l'adempimento, però possono capitare delle situazioni in cui vi è una mancata esecuzione della prestazione oppure c'è una sua inesatta esecuzione da parte di uno dei contraenti e questo è il caso dell'inadempimento. Quindi l'inadempimento può essere assoluto nel caso in cui la prestazione completamente non può essere fatta oppure relativo quando è stata fatta parzialmente oppure si sta verificando un ritardo nell'adempimento. Il debitore che si trova in una situazione di questo genere può anche riuscire a dimostrare, l'onere della prova è sua, che il suo inadempimento sia dovuto ad una impossibilità della prestazione sopravvenuta e per cause non imputabili a lui. In questo caso se riesce a dimostrare ciò la obbligazione si estingue e il debitore viene liberato. Se però l'obbligazione nasce da un contratto a prestazioni corrispettive e l'altra parte ha già eseguito la sua parte ha diritto ad una restituzione, ma se invece non ha ancora aderito non ha ancora eseguito non dovrà più eseguire la sua parte, la sua prestazione. Ma torniamo alla situazione in cui invece il debitore è responsabile per l'inadempimento. Questo inadempimento e questa sua responsabilità può essere causata da dolo o da colpa? Da dolo quando il debitore è volontariamente inadempiente. Per colpa invece è quando l'inadempimento dipende da imprudenza, imperizia o negligenza da parte del debitore, vale a dire il debitore non ha usato la giusta diligenza, cioè la diligenza media richiesta nell'adempimento e in questo caso parliamo di colpa lieve, oppure non ha rispettato i criteri minimi dell'adempimento e quindi in questo caso parliamo di colpa grave. In questi casi, sia nel caso del dolo che della colpa, il debitore è responsabile e quindi il creditore può agire per vedere tutelati i suoi diritti. Può chiedere al giudice di condannare il debitore a rispettare i suoi obblighi e se in seguito alla sentenza del giudice che lo condanna ad eseguire comunque in forma specifica, cioè nel modo che era stato stabilito originariamente nell'obbligazione, se ciò nonostante il debitore continua a non adempiere, si può arrivare ad una esecuzione forzata e quindi il creditore potrà in questo modo ottenere lo stesso risultato che avrebbe ottenuto se la prestazione fosse stata regolarmente eseguita. Ma se ciò non è possibile oppure il creditore non vi ha più interesse, il risarcimento può essere stabilito dal giudice per equivalente, vale a dire un risarcimento del danno che assume il valore della totale riparazione delle conseguenze dell'inadempimento. In questo caso devono essere risarciti sia il danno emergente che il lucro cessante. Il danno emergente è quell'effettiva diminuzione del patrimonio del creditore a causa dell'inadempimento. Il lucro cessante, eccolo, il lucro cessante invece è il mancato guadagno, cioè ciò che il creditore avrebbe potuto guadagnare se fosse stato eseguito l'adempimento. Chiaramente ci deve essere un nesso di causa-effetto, vale a dire non tutti i danni sono risarcibili, ma solo quelli che siano una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Sono risarcibili solo i danni prevedibili in caso di colpa, ma anche i danni imprevedibili in caso di dolo. E ora vediamo che cosa succede quando si verifica un ritardo nell'adempimento. Il ritardo nell'adempimento si chiama mora, mora del debitore, in quanto il debitore senza un giustificato motivo ritarda l'esecuzione della prestazione. Ovviamente il debitore non è responsabile se le cause sono dovute ad un'impossibilità a lui non imputabile. Ma se il termine per l'adempimento è scaduto e quindi vi è una esigibilità della prestazione e il creditore ha ancora interesse a ricevere la prestazione, può costituire in mora il debitore al fine di pretendere l'adempimento. Ci sono dei casi in cui la mora si verifica automaticamente e sia quando c'è una scadenza del termine, quando l'obbligazione deriva da un fatto illecito oppure se il debitore per iscritto comunica al creditore di rifiutare la sua prestazione. Vediamo quali sono gli effetti. Allora innanzitutto se era iniziata la prescrizione e la prescrizione dei diritti la prescrizione si interrompe. Inoltre è dovuto un risarcimento per i danni che sono provocati dal ritardo nel caso di una obbligazione pecuniaria, ricordiamola quella che ha ad oggetto una somma di denaro, c'è l'obbligo di pagare gli interessi per il ritardo. Inoltre vi è un aggravamento del rischio e cioè che cosa vuol dire? Che se ci sia un'impossibilità sopravvenuta, ovviamente non per causa imputabile al debitore, a questo punto il debitore non può più avvalersi di questa diciamo di questo aiuto che è provare che la prestazione non è più possibile ma dovrà pagare anche i danni. La stessa costituzione in mora del debitore è il momento in cui diciamo il creditore dimostra di avere interesse all'esecuzione perché intanto che non costituisce in mora il debitore anche se il ritardo già si sta iniziando a produrre, si considera, si presume che il creditore stia tollerando il ritardo. Vediamo adesso invece che cosa succede nel caso si verifichi una mora del creditore. Allora innanzitutto dobbiamo ricordare che nelle obbligazioni è necessaria la collaborazione del creditore, quindi il debitore per potersi liberare ha necessità che il creditore collabori e renda possibile la sua prestazione. Allora vediamo quali sono i presupposti per costituire in mora il creditore. Allora innanzitutto ci deve essere un rifiuto ingiustificato cioè senza motivo di ricevere la prestazione e poi ci deve essere un'offerta da parte del creditore, voglia dire il debitore deve costituire in mora il creditore tramite un'offerta solenne o formale che deve essere fatta da un pubblico ufficiale per esempio un notaio. Questa offerta può essere reale per beni mobili che consiste nella esibizione da parte del pubblico ufficiale del bene e il notaio contestualmente ridige un verbale nel quale viene diciamo descritta la situazione cioè l'offerta reale effettuata e la risposta ricevuta dal creditore. Oppure l'offerta formale può essere fatta per intimazione, vale a dire il notaio intima al creditore di compiere tutti quegli atti necessari per rendere possibile la prestazione. Questo si ha soprattutto quando l'oggetto della prestazione riguarda i beni mobili oppure anche servizi o beni mobili che sarebbero dovuti nel domicilio del creditore. Vediamo infine quali sono gli effetti. Allora gli effetti sono innanzitutto un risarcimento dei danni del ritardo perché se il diciamo il non accettare il bene oppure per esempio se si tratta di un bene mobile e che il creditore non accetta e il debitore deve custodire questo bene ad esempio affittando un magazzino le spese sono a carico del creditore. E poi c'è un passaggio del rischio dell'impossibilità sopravvenuta che passa dal debitore al creditore e inoltre se il bene oggetto dell'obbligazione produce degli interessi o dei frutti questi non possono essere richiesti poi dal creditore ma vi è proprio un'interruzione di essi.